Si sta già parlando di iPhone 16 Pro, è già uscito un mini trailer, si è già visto qualcosina, per cui oggi andiamo a parlare di questo telefono che deve arrivare, che non è ancora uscito e quindi noi non ce l'abbiamo in nostro possesso, noi qui abbiamo un iPhone 15, però andiamo a vedere attraverso l'iPhone 15 quelli che secondo me potrebbero essere delle migliorie da introdurre su questo nuovo modello. Migliorie che, attenzione, non credo che verranno introdotte perché queste sono cose che vorrei io, secondo me Apple sa benissimo che un pubblico generalista non vuole queste cose che sono troppo particolari, gli farà un prodotto generalista come d'altronde quest'ultimo, secondo me è un gran telefono l'iPhone 15 ma ci sono stati dei peggioramenti dal punto di vista della progettazione, dal punto di vista ingegneristico, ci sono stati dei peggioramenti addirittura dal modello 11 e andremo a vedere insieme perché. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni, non amo fare fotografie con lo smartphone, però avere in tasca uno strumento tutto sommato potente come questo sicuramente mi fa piacere. Nel corso del video di oggi andremo a vedere delle cose che ho realizzato con un iPhone 15 Pro e andremo a parlare di quelle che secondo me potrebbero essere delle migliorie che spero verranno implementate sul modello successivo di cui si è già parlato, rimane una mia speranza perché in realtà credo che poi faranno giustamente di testa loro. Prima di cominciare ricordo a tutti quelli che non l'avessero ancora fatto, quelli che mi seguono oggi per la prima volta, di iscriversi subito al canale così non vi perdete i prossimi contenuti, date una possibilità a questo canale. Benissimo, a questo punto io direi facciamo un salto nel mio computer e vi mostro delle fotografie scattate con iPhone 15 Pro in modalità RAW e quindi andiamo a vedere, anzi DNG, andiamo a vedere le fotografie, come si presentano e le criticità che io ho riscontrato e cose che spero vengano migliorate su questo iPhone 16 di prossima uscita. Benissimo, andiamo innanzitutto a vedere una fotografia che ho realizzato di recente, noi abbiamo il profilo di Apple, profilo che a me non piace ma che comunque rimane consigliato, eppure guardate che cosa succede quando andiamo a cambiare il profilo. Adobe Color e vedete che è meglio, è meglio, è più fedele a quello che io vedevo con i miei occhi. Dopodiché possiamo andare a fare dei recuperi ma possiamo andare a pasticciarla, a migliorarla ulteriormente e io sono un grandissimo fan del recupero delle alte luci perché voglio una gamma il più possibile controllata. Che cosa c'è da dire su questa immagine? Secondo me Apple dovresti imparare a utilizzare dei profili gestibili dagli esseri umani, nel senso questi profili proprietari che funzionano solo su Apple e appena esci da Apple e vai su un altro programma, ma come la stessa Adobe, nel momento in cui io vado su Adobe il profilo Apple non funziona più, non rende più bene come quando lo stavo vedendo a monitor e questa cosa a me dà molto fastidio, anche i video, i video che escono da iPhone 15 Pro adesso su Adobe, su Premiere non funzionano più, non si leggono più correttamente, l'HDR non si legge più correttamente perché ha un profilo colore diverso che non si interfaccia. imparate a usare i profili normali che poi si trovano implementati su tutte le piattaforme, smettetela di usare i vostri profili proprietari, non li vogliamo, siamo sicuri che siete in grado di darci delle immagini buone anche usando dei profili che troviamo poi su tutte quante le piattaforme, quindi questa è la primissima cosa che mi viene in mente. Dopodiché andando a vedere il dettaglio, devo dire qui stiamo, guardate che bello, il dettaglio è molto bello, qui stiamo scattando in RAW a 48 megapixel, devo dire il dettaglio è veramente molto bello, ma è migliorabile, secondo me è ancora migliorabile, io mi aspetterei un miglioramento in termini di dettaglio più che in termini di tecnologia e di avolerie varie, dateci una foto ancora più dettagliata, non con più megapixel, più dettagliata, quindi più qualità sul sensore, più qualità sulle ottiche, non più megapixel, sono due cose diverse. Proseguiamo con un'altra immagine, in questo caso vedete chiaramente è la stessa scena, andiamo a pasticciare nuovamente quei profili, vedete che abbiamo anche un Apple monochrome e anche qui questi profili proprietari, cioè io non sono soddisfatto di un bianco e nero fatto così, preferisco farmelo a mano a questo punto e comunque rimane sempre il fatto che i profili, quelli normali, non di Apple, a me sembra che funzionino meglio del loro profilo proprietario, quindi mi domando perché avere un profilo proprietario se poi gli altri funzionano meglio, mi domando questa cosa. Vedete che il colore è chiaramente meglio con i profili di Adobe messi a caso tra l'altro, io li sto mettendo a caso, non me la sono studiata prima, li sto mettendo a caso con voi mentre li guardiamo. Il file non è brutto, non si presenta male, è molto nitido, è molto dettagliato anche se è strainterpolato, però proprio questa cosa del profilo suo proprietario è una cosa che a me disturba anche perché poi a seconda di dove vai a recapitare questa foto la mando a qualcuno che ha un iPhone la vede bene, la mando a qualcuno che ha un pc la vede male, la carico su Instagram si vede diversa, la mando a uno che la apre con Photoshop si vede diversa, la mando a uno che la apre con Affinity si vede diversa. Perché usare un profilo proprietario che poi mette tutti in difficoltà? È questo che io mi domando, cioè avete la squadra di ricerca e sviluppo in grado di implementare un profilo normale sui vostri file. Io non ci credo che non ce l'avete, siete pigri. Andiamo a vedere un'altra immagine e qui andiamo a fare qualcosa di diverso. Qui chiaramente questo era un tramonto in cui mi sono imbattuto e quindi ho pensato di fare delle foto in RAW con l'iPhone 15 Pro per farvi questo video. Andiamo a vedere come si comporta con paesaggio. Prima avevamo usato colore e vedete che ecco forse con paesaggio devo dire questa forse è la resa migliore che ho visto finora, nel senso che con il suo profilo proprietario non mi piace, non è quello che vedevo con i miei occhi ma vi dico non è nemmeno quello che vedevo a display dopo averla catturata. Quindi proprio nel momento in cui la apro su Adobe mi viene stravolta. Poi possiamo andare a recuperarla e vedete che possiamo anche fare un bel recupero quindi il file non è per niente brutto. Il file è un file che ci permette uno sviluppo anche abbastanza invasivo e questa è sicuramente una cosa buona. Andiamo anche a mettergli un po' di vignettatura che è una cosa che normalmente io non amo però in questo caso ci può anche stare. Secondo me si possono tirare fuori delle ottime cose da qui. Diciamo che mi aspetto cose ancora migliori sull'iPhone 16 Pro. Io vorrei più qualità, più nitidezza, più gamma dinamica. Possibilmente più gamma dinamica ma non interpolata, più gamma dinamica reale sul sensore. Io questo vorrei e quindi non fatelo da 60 megapixel. Cioè ragazzi se mi fanno l'iPhone 16 Pro e mi fa perché io lo so già che faranno così. Diranno cosa vuole l'ignorante? Vuole più megapixel. Allora facciamo una bella cosa. Adesso facciamo fotocamera base da 48 megapixel, fotocamera espansa da 150 megapixel così facciamo contenti. Ecco questo è proprio quello che io non vorrei. Io vorrei delle foto più belle ma non delle foto più grandi e più pesanti. Ora andiamo a vedere un'altra immagine. Questa qui è stata scattata sempre lo stesso giorno, sempre con lo stesso tramonto da una posizione più elevata. Guardate che cosa succede nel momento in cui andiamo a fare un bel recupero. Recupero delle alte luci quindi un recupero un po' antipatico volendo. Vedete andiamo a vedere con gli alert vedete che riusciamo a recuperare praticamente tutte le informazioni quindi il file è bello ragazzi. Paradossalmente il file è molto bello. Io poi mi lamento però questo file in realtà è molto bello perché abbiamo recuperato tutte le luci e tutti i colori di questo tramonto mantenendo anche un bel dettaglio. Quindi questo file è pieno zeppo di informazioni. È fatto bene. L'unica cosa di cui appunto mi lamentavo è questo profilo proprietario incorporato che secondo me crea solo problemi. Ora andiamo a vedere una fotografia esposta meglio perché quella di prima l'avevo esposta male apposta per vedere questo recupero. Qui abbiamo una fotografia esposta meglio. Vedete abbiamo il suo profilo proprietario. Guardate come migliora quando andiamo a mettere il profilo Adobe Paesaggio. Ora qui ho fatto un giochino particolare per farvi vedere una cosa. Ho fatto una macro quindi mi sono fotografato il polso per avere qualcosa di vicino perché ero su un tetto. Guardate che cosa succede quando cambio profilo. Questo è ancora più seccante ragazzi. Vedete che cosa succede. Io qui posso recuperarla un pochino e qui stiamo sempre scattando in RAW o in DNG. Quindi questa è la cosa veramente su cui secondo me devono lavorare un po'. La macro sull'iPhone 15 Pro io la trovo terrificante. Veramente orribile come l'hanno fatta perché puoi fare macro solamente col grand'angolo che già è una boiata di per sé. Inoltre io adesso qui vado a cercare di fare dei recuperi. Vedete cerco di recuperare il cielo, di scurire il cielo e di mantenere il resto chiaro perché a quanto ho capito la modalità macro una volta innescata mi genera un file con delle caratteristiche completamente diverse rispetto alle fotografie normali. Abbiamo visto finora che se io andavo a mettere un profilo diverso la mia foto migliorava. Vedete che in questo caso invece, e qui adesso vado a dispare quello che ho fatto perché qui adesso ho dato pennellate e ho fatto modifiche, però il sunto è che questa fotografia fatta con la fotocamera in modalità macro ha delle caratteristiche così diverse rispetto a prima che se io cambio il profilo proprietario non riesco più a ottenere la stessa cosa. Questo è bruttissimo ragazzi, cioè non tanto il fatto che mi obblighi a usare il profilo proprietario, quello ce l'ho lì mi va anche bene. Se ottengo il risultato migliore col profilo proprietario lo uso, mi dà fastidio perché preferirei poterlo cambiare, ma lo uso non è un grosso problema. Però il problema è che ci sia una differenza così grande tra il profilo proprietario e gli altri profili, perché avete visto che roba, e oltretutto che sia l'opposto rispetto a quanto visto in precedenza. Cioè le fotografie scattate normalmente, profilo proprietario sovraesposto, bruttino, profilo che scelgo io, tutto bello. Andiamo in modalità macro, profilo proprietario tutto bello, profilo che scelgo io, sovraesposto. Cioè perché questa differenza? Perché? Perché gestite le cose in questa maniera? Così obbligate la gente ad avere un flusso di lavoro contorto. Sarebbe così bello avere la stessa cosa, sapere che la mia fotocamera si comporta allo stesso modo qualunque cosa io stia facendo. Non ci credo che Apple non ha le risorse per implementare un processo di questo tipo, non ci credo. Sono pigri. Andiamo a vedere la stessa cosa e qui andiamo a vedere un'altra cosa però che non so se sia meglio o peggio. Allora, innanzitutto andiamo a fare dei recuperi perché comunque anche col profilo proprietario vedete che non è bella. Io sto usando Apple Pro Raw ma non è bella. Intanto ha un sacco di rumore e questo già è un problema. Cioè la gestione del rumore è diversa e guardate qui, guardate la gestione delle varie zone. Qui abbiamo uno stacco tra il cielo e il resto, quindi sia tra le zone di esposizione diversa sia tra i piani di messa a fuoco che è orribile. Ci sono delle righe molto visibili. Sul soggetto principale abbiamo pochissima definizione e tantissimo rumore. Cioè questa foto è inutilizzabile e io so benissimo che se l'avessi scattata non in raw ma in automatico sarebbe venuta meglio. Adesso proviamo a migliorarla un pochino per quanto possibile con la morte addosso proprio perché uno dice io scatto in raw dovrei poterla recuperare, dovrei poter fare quello che voglio, invece io vi dico già che io so già che in automatico l'avrebbe fatta meglio di così perché il suo algoritmo interno è migliore di quello che posso fare io in raw. Questa cosa secondo me non va bene. Cioè mi dovete dare un file che io sia in grado di sviluppare con gli strumenti che ho. Io qui ho Photoshop ultima versione, non è possibile che il telefono in automatico si comporti meglio di quello che sono in grado di ottenere io con Photoshop ultima versione. Tradotto, il file interpolato post prodotto internamente dal telefono con gli algoritmi di Apple è così bello che mi batte, mi batte sulla mia post produzione, è più bravo lui di me. Quello che dico io è, io reputo che mi batta però non perché sono scarso io ma perché il DNG non mi dà la possibilità di essere sviluppato in quel modo esternamente. Mi dovete dare un DNG che io sia in grado di sviluppare perché adesso vi faccio vedere, vedete che cosa succede? Se io vado a togliere il rumore con gli strumenti che ho, perdo tutta la definizione che già era assente sul DNG quindi comunque già sono in una situazione deficitaria in cui faccio fatica. Mi dovete dare un DNG che io sia in grado di sviluppare per ottenere lo stesso risultato che avrei se l'avessi fatta in automatico. Questa cosa che in automatico viene bene e il DNG non ho gli strumenti per svilupparlo, non va bene. Io voglio un DNG in grado di essere sviluppato. Eh scusate se chiedo troppo. Bene amici queste sono le cose che personalmente vorrei vedere diverse su iPhone 16 Pro. Poi attenzione stiamo comunque parlando di un telefono buono, io lo uso, l'ho usato per fare tante cose, ha una resa che la maggior parte delle volte va bene. La cosa veramente mi sta dando un fastidio bestia sono sti profili proprietari maledetti o comunque sti profili nuovi che magari certi software non gestiscono, certe applicazioni non gestiscono. Io da quando ho fatto l'ultimo aggiornamento sia di Premiere che dell'iPhone adesso mi trovo con i filmati HDR dell'iPhone che quando vado su Premiere fanno schifo. Io li guardo sul telefono, li guardo con QuickTime sul computer, sul Mac e si vedono bene. Poi vado su Premiere e si vedono malissimo tutti sovraesposti, tutti stinti, bisogna ricolorarli da capo e non esiste un profilo colore che me li renda giusti perché filmato Apple esce così. E le foto la stessa cosa. Queste sono veramente cose che io non capisco benissimo. Apple dice l'iPhone è fatto per fare la foto postarla su Instagram. Qualsiasi passaggio intermedio io te lo osteggio, non te lo lascio fare. E così però voglio dire, certo stai andando incontro al mercato generalista che se ne frega che non userà mai un software professionale in vita sua, però mi stai rompendo le scatole a me. E poi io faccio questo video per dire a tutti che spero che certe cose su Apple cambino. Insomma staremo a vedere. Fatemi sapere qui sotto in un commento che cosa ne pensate, se anche a voi queste cose hanno dato fastidio oppure se usate Xiaomi e quindi non avete di questi problemi. Vi ricordo che io spesso e volentieri rispondo con degli shorts quindi iscrivetevi adesso così non ve li andate a perdere. Signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.